Triplo tentato scippo ieri nel centro di Trieste ad opera di un trio di campani residenti a Monfalcone, tutti individuati grazie ad un'indagine capillare coordinata dalla polizia. Gli episodi in rapida successione hanno avuto come teatro Via della Fornace, Via Roma e Via Ghega, nel mirino dei malviventi, tre anziane. La prima aggressione è risoltasi con la resistenza della 75enne, che non ha mollato la presa della borsetta ma è caduta a terra afferendosi lievemente, e quella che ha fatto scattare la rete di pattugliamenti della questura. Gli investigatori, una volta individuati i presunti responsabili, li hanno pedinati, quindi sono entrati in azione quando il più giovane dei tre, ancora minorenne, si è allontanato dal resto della banda avvicinando una signora che camminava in compagnia del marito. Con un gesto fulmineo quanto violento l'ha spintonata a terra tentando in vano di rubarle la borsetta. Lo scippatore si è dato immediatamente alla fuga venendo bloccato ed arrestato dagli agenti, mentre la malcapitata ha rimediato una frattura all'omero. Il servizio di sicurezza, prontato in zona, ha permesso di fermare anche gli altri due, entrambi maggiorenni. Sarò ora il tribunale, minorile ed ordinario, a stabilire le conseguenze di un ride che avrebbe potuto causare danni fisici ben più gravi alle tre malcapitate.